è arrivata è arrivata l'estate allora giustamente andremo tutti in vacanza più o meno ma l'importante è che prima di andare in vacanza si vada a donare il sangue mi raccomando il nostro sangue prezioso e poi le malattie non vanno in vacanza non ci vanno gli incidenti non ci vanno le operazioni le urgenze le emergenze e quindi che bisogna fare donare il sangue come semplice rivolgete i miei centri trasfusionali o se avete già una vostra associazione di fiducia dove già donate o se no alle associazioni e poi cominciate vi fanno anche una bella visita così capiamo come stiamo e poi doniamo liberamente poi dopo vacanze, mari, monti, montagne ma dove vi pare l'importante è donare prima di andare grazie